Giovedì verrà presentata in Parlamento una proposta firmata dagli onorevoli del Partito Democratico Roger De Menech e Luca Lotti, già Ministro dello Sport, a sostegno di Cortina Milano 2026. Vogliamo sfruttare i lavori e le ingenti risorse che il nostro Governo ha messo per l'organizzazione dei mondiali di Cortina nel 2021 e vogliamo far sì che si possa prendere un impegno come Governo, come Parlamento affinché si mettano a disposizione risorse, norme, tutto quello che serve per essere pronti ad ospitare le Olimpiadi Invernali a Milano e a Cortina. Cortina soprattutto per i lavori che abbiamo portato in questi anni. Che termini pensate si dovrebbe intervenire? La proposta è in realtà una proposta positiva che offre al Governo la disponibilità del Partito Democratico ma non solo di tutte quelle forze che hanno voglia, senza colore di partito, di bandiera, senza essere di parte, che hanno voglia di dare una mano a Cortina, alla montagna, all'Italia, a far sì che questo importantissimo evento sia organizzato in Italia e sia fatto da noi, sia gestito da quelle persone che hanno portato avanti la candidatura per i mondiali nel 2021 a Cortina e ci sono riuscite e il Parlamento si deve esprimere in maniera, secondo me e secondo noi, secondo l'onorevole Demenech e i sottoscritti, in maniera unitaria a sostegno della candidatura per l'Italia. C'è qualcosa che lei si sente il rammarico di non essere riuscito a realizzare nel tempo del suo Governo? Certamente non aver chiuso prima già la candidatura olimpica per il 2026 su Milano e Cortina, siamo arrivati un po' lunghi ma questo è un rammarico secondario. Probabilmente non aver rivisto con una legge quadro la norma generale che riguarda lo sport, le discipline sportive in generale, l'aver riorganizzato su questo tutto l'intero settore, dalla legge 91-81 fino alla riorganizzazione delle varie federazioni. Avevamo però un anno di tempo, io ho fatto il ministro per un anno e sapevamo di non riuscire in un anno a far tutto, la prossima volta magari ci mettiamo le mani.